Ministro Benedetti Siamo qui con l'Istat all'Assemblea Anci per promuovere il censimento delle istituzioni pubbliche che è in atto e sarà in corso fino al 20 dicembre di quest'anno. Può dire qualcosa per sollecitare le istituzioni pubbliche a rispondere? Credo sia un'occasione di conoscenza della nostra struttura amministrativa. Infatti in realtà la prima cosa che serve per assicurare buon funzionamento delle amministrazioni è conoscerle, cioè avere dei dati precisi su cui si possa proprio intervenire con cognizione di causa. Per questo credo che sia fondamentale che tutte le amministrazioni diano il massimo della collaborazione a questa attività istituzionale dell'Istat proprio perché avere i dati significa avere conoscenza e dalla conoscenza si può consentire di intervenire sul funzionamento delle amministrazioni con misure appropriate e calibrate alle singole amministrazioni. Grazie per la visione!